Dagli Atti degli Apostoli Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della Sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere, vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto, perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave. Regni della Terra, cantate a Dio. Mostra, oh Dio, la tua forza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo Tempio, in Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Regni della Terra, cantate a Dio. Regni della Terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. A colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. Regni della Terra, cantate a Dio. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, oh Dio, nel tuo santuario. E' Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Regni della Terra, cantate a Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.